Perché Catania ha vinto su Augusta e di rimando su Siracusa? Secondo me Catania non ha vinto su Augusta e meno che mai su Siracusa. Catania, che poi non è Catania, nel creare l'autorità portuale di sistema, Catania ed Augusta, il decreto prevede che debbono essere accorpate. Debbono essere accorpate e in base a quello che prevede il decreto stesso debbono essere accorpate attorno al portocorre che è Augusta. Quindi è tutto chiaro quello che la legge prevedeva. Qui c'è un colpo di coda da parte di Catania che ritiene un disvalore il fatto che l'accorpamento avvenga su Augusta, ma come indirizzo, attenzione, come sede dell'autorità portuale e non su Catania, che è città metropolitana. Questo tipo di discorso io lo posso induire, lo posso capire come fatto d'immagine, ma non gli attribuiscono un valore più elevato di un fatto d'immagine. Io penso che è importante invece la futura governance, cioè quando i rappresentanti dei territori che sono Regione Siciliana, Portualità di Catania e Portualità di Augusta si siedono attorno a un tavolo per definire le linee strategiche, la distribuzione delle risorse, fare le previsioni per gli investimenti e così via. Questo è il momento importante di un sistema. Mentre in discorsi di questo tipo, e il Porto di Augusta ne è un esempio, bisogna fare progetti di medio-lungo termine, bisogna fare piani regolatori, bisogna prevedere gli investimenti, bisogna prevedere tante cose che io avevo provisto, ma che ho lasciato ormai nel lontano 2013, avevo lasciato delle attività da fare, comprese anche le gare assegnate, non solo i finanziamenti avuti, ma anche le gare assegnate che invece oggi ancora sono al passo. Siamo stati lenti come territorio? Siamo stati lenti, io quattro anni fa ho presentato il piano regolatore ai comuni. Non lo so se siamo lenti o se questi sono i tempi. È stato fatto che i finanziamenti che avevano dato a me, ricordo anche la data, il 21 marzo del 2013, terminata la programmazione nel 2015, e poiché ne erano stati spesi pochissimi, sono stati riterati per essere rifinanziati nella nuova programmazione. Ma essere rifinanziati nella nuova programmazione significa rifare un'altra volta tutta la procedura. Grazie. Grazie. Grazie.